Però senta proprio l'applauso, senta proprio l'applauso, va bene, qua bravi, sono sotto la scalina, sentite, quelli sotto la scalina, via! Anche con lui, sentite però quelli del piano, sentite. Spettacolo, ancora a mano a fuoco, vamos! Signore, si sente foca. Sì, ecco, ecco, vamos! La bilancia a fuoco! Corra, toia che non ci vado e ormai, vanno i tanti, a di connessi da scuola. Adesso, vogliamo eliminare i scienzi, non ci sono mai. Grazie.